Salvatore Polimeno, detto Andrea, 23 anni, leccese, è l'autore dell'omicidio che il 2 agosto scorso ha scosso il Salento. E' lui che con freddezza inaudita ha puntato la pistola attraverso la recinzione di Piazza Palio, dove era in corso l'allestimento del palco per il concerto poi saltato di Laura Pausini, ed ha sparato tre colpi di cui due hanno colpito la testa Valentino Spalluto, giovane di surbo, morto sul colpo. Salvatore Polimeno commise però un grave errore, sbagliò persona. In realtà la vittima predestinata era Alessandro Leo, detto Sasu, con il quale aveva dei conti in sospeso per fatti di droga e anche lui al lavoro tra gli operai. Quell'errore gli è costato caro, la sua convinzione di aver ucciso Leo lo portò a dire al fratello, raggiunto pochi minuti dopo in casa, hanno ucciso Lusasu. L'unica persona a credere che Lusasu fosse stato ucciso in quel momento poteva essere soltanto lui. Niente poteva fargli pensare, essendosi allontanato in tutta fretta dal luogo di aver sbagliato persona. Questa frase, accertata dagli inquirenti in sede di interrogatori, è stata decisiva per incastrare definitivamente l'assassino e si aggiunge ad una serie di altri elementi che hanno portato all'ordinanza d'arresto per omicidio volontario e aggravato dalla premeditazione. Il quadro è chiaro in realtà sin dalle primissime ore. Gli agenti della squadra mobile guidati dal dottor Michela Benante e dal dottor Rocco Carrozzo individuano da subito Salvatore Polimeno come il probabile assassino. Lui tra l'altro non si preoccupa più di tanto di prendere precauzioni. Sul luogo dell'omicidio ci va con il suo scooter, uno scarabeo nero con un adesivo dell'Ecce. Spara tra la gente, decine le persone che in quel momento si trovano a curiosare in zona. Non solo, qualche minuto prima, si toglie anche il casco, gironzolando lungo il recinto come a voler cercare il luogo migliore da dove sparare. Il giorno prima e persino la mattina stessa compie anche dei sopralluoghi, come riferiranno alcuni testimoni. Non è solo, c'è un'altra persona con lui che gli investigatori stanno cercando. L'omicidio avviene alle 16.45. Alle 17.11 Polimeno arriva a casa del fratello nella zona 167, con fabula delle frasi, tra cui quella riferita a Saso e agli arresti domiciliari per uccidere Evaso. E non è la prima volta, per questo viene arrestato subito. Il giorno dopo una telefonata anonima fa il suo nome e si rivelerà essere un parente. La stessa famiglia vuole isolarlo. Alla svolta si arriva con la testimonianza fondamentale di tre ragazzini. Hanno 3, 15 e 16 anni. Sono i testimoni oculari dell'omicidio e Polimeno lo conoscono bene. L'assassino li vede, dopo aver sparato tenta di intimorirle con lo sguardo. Sono gli unici, tra i presenti, a fornire una testimonianza fondamentale. Hanno rotto quel velo di omertà che avvolge la 167, zona da sempre critica della città, ha detto il procuratore capo, Cataldo Motta, che insieme al PM, Carmen Ruggero, ha coordinato le indagini. Evidentemente si sentiva tranquillo e contava molto sul silenzio da parte di chi, e non è una novità, da parte di chi vede e non parla. Noi abbiamo avuto collaborazione, come dicevo prima, da parte dei familiari.